Salve ragazze, benvenuti, benvenute a tutti nel mio nuovo messaggio short, non quello da un minuto ma quello da più minuti, ma sempre breve. La domanda, se non mi faccio più sentire io, mi chiamerà lui? Andiamo a vedere con i nostri Rider White Tarot, prendiamo tre carte, una, due e tre, ancora con gli angeli del cuore, andiamo a prendere anche qui tre carte. Quindi andiamo a prendere queste tre carte anche con questi meravigliosi angeli del cuore, ecco qua, e con le carte gialle andremo a vedere, appunto, se non vi fate più sentire, se lui vi chiamerà. Andiamo a vedere, prendiamo tre carte anche qua, quindi una, due e tre e andiamo ad analizzare il tutto. Allora, qui c'è amarsi non è tutto, sono pentito del male che ti ho fatto, nella distanza ho capito che ti amo. Quindi intanto diciamo che se non vi fate più sentire voi, vi chiamerà sicuramente. Qua c'è una forte attrazione, abbiamo il diavolo e abbiamo il tre di denari, quindi questa persona vuole assolutamente, nuovamente collaborare con voi. Cioè nel senso vuole prosperità, vuole un aumento, una nascita di nuovamente di questo rapporto di sesso, di attrazione e di dipendenza. Nonostante ci sono queste dinamiche di competizione con cui appunto siete tornati ad essere liberi. Quindi qua sicuramente non vi sentite e insomma da un po', vi siete allontanati da un po'. Però qua le carte vi dicono, fai uno sforzo perché potrebbe essere questo la persona giusta. Quindi insomma, voi se decidete di non farvi sentire, comunque lui vi chiamerà perché c'è questa energia molto forte. Quindi lui farà uno sforzo perché ritiene che è la persona giusta. Però nello stesso tempo questa persona, vedete, è pentito dal male che vi ha fatto. Quindi sicuramente vi chiamerà anche per questa ragione. Poi nonostante tutto dice, nella distanza ho capito che ti amo. Quindi comunque questa persona in questo vostro silenzio ha capito ciò. Però fate comunque attenzione perché amarsi non è tutto. Quindi questa carta vi vuole dire, sì è vero l'amore è importante, però è anche importante comunque avere una compatibilità. Cioè essere più diciamo comprensivi perché se no poi magari incappate sempre negli stessi errori. Quindi questo era il mio messaggio breve. Ragazzi un bacione enorme dalla vostra Zaira. Ciao!